che spettacolo ragazzi fate un saluto per gli amici del tubo perché questo andrà su youtube alle filippine sentire Toto Cotugno è veramente il massimo questo che si nasconde ma è in spagnolo no no non è in spagnolo è italiano ha gentile richiesta grazie a me, tutto questo grazie grazie per aver richiesto questa meravigliosa cazzola altrimenti se ne sarebbero andate vergognoso non so se in mezzo prendevo canzioni degli operatori dello stabilimento questi qua che cantano questi sono dei fenomeni ma li riprendono solo me sto riprendendo alunce io credevo che solo quegli idioti dei russi ascoltassero Toto Cotugno invece no quindi non sono i più idioti ma Toto Cotugno non l'ha apprezzato nessuna ma forse tutto è morto fuori dall'Italia è fabbocissima che spettacolo l'ha apprezzato l'ha italiana 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 Grazie a tutti